Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, sono le ore 22 circa di domenica 4 settembre e sono in partenza per Roma in quanto domani trascorrerò una giornata di relax nella capitale per poi partire martedì mattina verso Copenhagen quindi potete già immaginare come in questo video mi accompagnerete in questa mia avventura, in questo mio viaggio nelle capitali della Limarca, quindi bando alle ciance e ci vediamo direttamente in aeroporto Ed eccoci qui ragazzi, siamo all'aeroporto di Fiumicino, sito in Roma, tra più o meno un'ora ho l'imbarco per Copenhagen quindi seguitemi in questa avventura anche perché cercherò di farvi vedere le bellezze o quantomeno cose che ripeto più interessanti della capitale della Limarca, siete quindi pronti? Al mio 3 ci dovremo direttamente all'aeroporto di Kastrup 1, 2 e 3 sono appena arrivato a Copenhagen, ora vado a prendere la metropolitana, vado nell'hotel che abbiamo prenotato e quindi mette sintonizzati perché ci divertiremo sicuramente insieme Depositati i bagagli in hotell e preparata la stanza, volevo mostrarvi questa prima bellezza della città Guardate che piazza enorme che è caratterizzata da questo edificio Vai a dire il municipio di Copenhagen, questa piazza si chiama Rodus Pleysn però adesso andiamo assolutamente avanti perché il tour non è finito qui ma poi ovviamente non può mancare uno di questi splendidi chioschetti che vende un hot dog che a Copenhagen ne troverete a Bizzeffe e questo è un altro dei punti molto caratteristici di Copenhagen infatti come vedete questo è il fiume dove partono le barche e fanno fare i giri per i canali appunto della capitale danese e ora voglio percorre con voi Newhound che sarebbe il porto nuovo di Copenhagen ed è fondamentalmente le classiche immagini che voi vedete voi andate su Google, scrivete Copenhagen e vi compaiono quelle abitazioni corate ebbene ora vi faccio vedere dal vivo e ovviamente nella prima giornata trascorsa per Copenhagen non poteva mancare una visita alla Hockey Uso cioè guardate che spettacolo questo crocoflorobolo e questo caramel florobolo sono fantastici buongiorno a tutti ragazzi e siamo qui pronti a vivere il secondo giorno a Copenhagen temperatura caldina ma lievemente ventosa ma dopo tutto Copenhagen è una delle città più ventose al mondo tappe di oggi sicuramente Den Lille Havreau quindi la Serenetta Rosenborg Slot quindi il Castello della Regina insieme al The King's Garden e poi vorrei passare al Thea Parken quindi allo so del Copenhagen vediamo ovviamente se poi sarà aperto queste sono le tappe certe poi sicuramente qualche sorpresina ci sarà e ovviamente a Copenhagen non potevano mancare che i negozi della Lego e piccolo fun fact molti di voi magari si chiederanno cosa vuol dire l'ego in realtà è una crasi del diciamo dell'espressione danese leugot che vuol dire gioca bene intanto per iniziare benissimo la giornata colazione a Cake & Hagen guardate che spettacolo una benissima rosa molto fashion e guardate che spettacolo ragazzi e guardate che spettacolo di colazione Banan K, Tivoli K che è un dolce con composta di mele, meringa, panna e poi il celeberimo chailare quindi una sorta di caffè latte però una cannella, stupendo e qui potete vedere il paradiso dei content creator potete vedere una A6400 a più o meno 1.000 euro, 7.500 corone e guardate qui addirittura una Sony A1 57.000 corone e l'A9 II 37.000 beh prezzi abbastanza voglio dire insomma non per tutti però insomma guardate che spettacolo e siamo ora vicini a De Lille che sarebbe la Silenetta devo dire che me ne immaginavo molto più grande però già sapevo che non fosse una cosa titanica però sì un bel monumento anche perché comunque è qualcosa di veramente addizionale per la Danimarca guardate che splendore questa chiesa la chiesa di Sant'Albano, una chiesa anglicana in questi giorni vedo se riesco a entrarci magari per fare qualche foto ma dubito onestamente perché sicuramente faranno delle cerimonie insomma penso che siano alquanto private ma guardate che bellezza assurda capolavoro del gotico e dopo una lunghissima camminata si continua con le specialità danesi in questo caso vedete lo smurro vale a dire dei pezzi di panni di segale con vari ingredienti sopra e personalizzabili in questo caso vedete con l'uovo, con l'avocado e da quest'altra parte con ovviamente le cipolle con le patate, con le salsine, vari eventuali il bacon e erba fresca e da bere ice latte con il rich cream molto italiano vero? ed eccoci qui siamo all'interno dell'orto botanico un posto veramente fantastico tutte piante qui dentro c'è un'umità pazzesca che giustamente non è che si possa essere in modo diverso in questo punto il video sarà un pochino più basso di volume perché ripeto molto eco giustamente sono altre persone che lo stanno visitando quindi non mi vai a disturbare particolarmente però se avete qui questi cartellini quindi probabilmente la specie della pianta urca bestia qui un freddo boia è cambiato totalmente la temperatura appena abbiamo aperto la porta comunque veramente ragazzi un posto spettacolare dove sono piante che non ho mai visto in vita mia però insomma è un'esperienza assolutamente da fare guardate che spettacolo siamo saliti in alto diciamo in cima alla cupoletta e da qui si possono vedere le piante tropicali dalla cima ovviamente un qualcosa di stupendo anche se insomma le scale sono molto scomode ora siamo all'esterno dell'orto botanico guardate qui che visuale con gli avventori qui sotto che stanno prendendo il caffè suppongo che insomma è il dito dei danesi ma guardate qui ragazzi io penso che in parte per il 20% forse anche il 15% mi ricordo insomma un po' villa d'este a livello di bellezza però insomma che la nostra villa d'este è la nostra villa d'este però ragazzi guardate qui che panorama e per concludere questo tour in alto botanico siamo nella butterfly house e dove sono farfalle che girano dappertutto ovviamente dopo dopo questa parte del video vi metterò qualche foto di farfalle che ho scattato veramente un qualcosa di stupendo ed eccoci qui pochi secondi davanti al teglia parken guarda che bestia qui ovviamente c'è l'ingresso in the gang skybox è veramente un io ho avuto il piacere di vederlo di vederlo dal vivo perché ho avuto vedere un match mi pare Copenaghen Brunenby è stato veramente bello 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 peccato non poter entrare perché ovviamente è chiuso però ripeto qui FC Copenhagen ed ecco qui l'ultima tappa del giorno vale a dire Khungenseu oppure The King's Garden in inglese e guardate quanto è spettacolare un viale totalmente alberato un prato dove vedete anche lì c'è gente che sta chillando molto felicemente ed è un posto veramente fantastico perché qui ci sono i genitori vengono con i figli a giocare a pallone è veramente una cosa fantastica soprattutto nei giorni di festa quello lì invece che avete sul vostro sfondo ecco qui ve lo sto indicando è il Rossmo's Lot per dire il il castello della regina per dirvi il castello reale quindi adesso non lo vedete poco anche perché non ci si può entrare semplicemente perché è una zona militarizzata militare home roll quindi non non ci fanno entrare ovviamente anche perché comunque ci sono le guardie che lo presidiano e ho assistito anche al cambio della guardia non si poteva filmare ma è stata veramente carina come cosa quindi direi che per la giornata di oggi è tutto e ci vediamo quindi al terzo giorno a copenhagen ed eccoci qui ragazzi pronti a vivere il terzo giorno a copenhagen oggi giornata veramente coperta come potete vedere ventose minaccia pioggia ma tra poco da Newhound partiremo per fare un bel giro lungo i canali della capitale quindi ragazzi godetevi lo spettacolo lungo i canali adesso la telecamera l'ho presa io ragazzi qui fa un freddo devastante devo dire però è bello perché è come andare nella colonna vertebrale della città intanto qui c'è anche il commentatore che commenta in danese che spiega tutte le cose storiche ma devo dire che è molto bello freddo 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 seduti in camera ed ecco qui il teatro dell'opera stupendo soprattutto visto da un battello e devo dire che siamo rimpiti dall'acqua e dopo una quantità di acqua presa si torna a New Haul come ultima tappa per oggi vedete qui Cristiania non penso che si possa riprendere perché è una città un po' particolare però magari dopo vi farò un video sulle mie impressioni finali dato che è la prima volta che ci vengo ed ecco qui sono all'interno di Cristiania uno dei luoghi diciamo dove si può fare un pochino si possono fare foto o video ecco potete vedere una delle tipiche arti del posto è un posto veramente strano cioè dove la libertà ovviamente se non conoscete Cristiania un po' informatevi perché insomma non posso dire su youtube cosa fanno qui però comunque è veramente una cosa stranissima molto particolare e molto carina è tipica insomma scol! scol! finando ovviamente gente che sta bevendo beer ragaiamente semplicemente li ho ho brindato con loro metaforicamente comunque veramente una bella cosa e penso che per i video di oggi si possa concludere qui anche perché è carino insomma chiuderlo con le tipicità di Cristiania quindi ci vediamo domani per il quarto giorno buongiorno a tutti ragazzi quarto giorno di questo mio viaggio a Copenaghen siamo sul treno 1038 della Resve tra poco attraversiamo l'Oresund direzione Malmö ora siamo sul Loro Sembro quindi siamo praticamente in mezzo all'acqua devo dire che è una cosa stranissima perché ovunque ti guardi non vedi assolutamente terra qui noi siamo un po' inabissati nel sottacco che siamo rimersi ora siamo nel mezzo dell'acqua e dopo queste clip vi metterò anche due brevi video vi faccio vedere un pochino le sensazioni che si possono provare siamo appientati in Svezia una cosa che non sapevo e che magari vi può essere utile sapere ci stiamo fermando alla stazione di Ilja e tra un po' se era un qualcuno un addetto al personale di sicurezza che controllerà il passaporto perché in effetti non siamo sotto legge di Schengen quindi controlli siamo appena uscite la stazione di Malm devo dire che sembra molto carina come città forse siamo quasi una Copenhagen un po' più piccola ma guardate che bestia architettonica che mi trovo qui è la St. Petri Kirka la chiesa di San Pietro è veramente una cosa enorme io adesso cerco di entrare perché sono curioso di vedere come è dentro io adesso cerco di vedere come è dentro e qui siamo al Kungsparken a Malm e prendo questo bellissimo posto anche qui immerso nel verde come Rosenborough Slot a Copenhagen ma vi dico una mia prima impressione su Malm ok che è piccolina ma è silenziosissima silenziosissima ragazzi non veramente non vuole una foglia senti soltanto il flebile rumore dei semafori quando scatta il verde per attraversare senti le macchine girare senti il vento senti le fronde degli alberi ma veramente è molto 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 silenziosa una cosa che onestamente non mi aspettavo è molto sorpresa nel Kungsparken abbiamo trovato lo Slot's Trade Garden ed è un posto uno dei posti più tranquilli della città guardate qui all'interno di Malm piante su piante ci sembra veramente di essere in un labirinto di qualche castello non lo so delle favole boh strano strano sembra quasi anche un mezzo museo botanico non lo so a me da questa impressione e oggi pranzo in Svezia da bere ovviamente una birra dei supporti del Malm è da mangiare uno Svenk Classiker vedo solo che c'è il bacon c'è una sorta di frittata d'uovo sono cosa sono questi? mirtilli? non lo so non sono esperto di frutta però ragazzi veramente io l'ho preso un po' alla cieca perché ho detto eh sono in Svezia non possono che non prendere lo Svenk Classiker confermo ragazzi una sorta di boh frittata vede qui una sorta di soffè di uova come cacchio di scriverla e dentro come vedete c'è una sorta di marmellata ai frutti rossi non lo so buonissima mmm e tra l'altro dopo averlo felicemente gustato mi sono anche informato di come si chiamasse quel piatto e si chiama Skjonska Egyakoga è sempre una torta di uova appunto con anche soffragoni di bosco mirtilli sopra veramente una specialità della zona della Scania e qui siamo in una delle piazze più pittoresche di Malm si chiama Lilla Tori che vuol dire piccola piazza vuol dire che è molto 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 carina abbastanza frequentata e pittoresca guarda insomma qui i colori delle case e le strutture molto carina e come ultima tappa di questo breve giro a Malm come potete vedere Lera Stadion nello stadio del Malm FF ovviamente la stessa cosa che ho fatto per il telepark in Copenaghen purtroppo questo tour lo considero finito anche perché domani ho il volo di ritorno verso l'Italia e quindi a questo punto ci vediamo direttamente in ostello per le considerazioni finali quindi un saluto dal sottoscritto da Malm ed eccoci qui dopo un'estimante giornata tra Malm in Copenaghen che dire di questi quattro giorni sono stati splendidi e veramente consiglio a tutti di venire in queste zone ho tralasciato nel video molte parti devo dire che comprendono magari le varie interazioni con le persone del luogo gli almeno 32 33 mila passi al giorno però ripeto consiglio a tutti in questa parte del mondo in Scandinavia veramente spendita soprattutto ovviamente parlando di Marca e volevo sfattare un mito non è assolutamente vero che i danesi sono freddi non mi resta altro che ringraziare appunto il popolo danese da Marca per avermi accolto averci accolto in modo così splendido e spero che abbiate gradito questo video confezito apposta per voi ciao ragazzi e buonanotte e buonanotte e buonanotte